E oggi vi parlo di un nuovissimo prodotto di casa Zhiyun, Fireway M20C Combo. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento, in anteprima e appena uscito, questo fantastico faretto di casa Zhiyun. Stiamo parlando del Fireway M20C Combo, il che vuol dire che con la luce arriveranno un sacco di accessori che vedremo dopo. Di cosa stiamo parlando? Di un classico faretto LED, ma da ben 20W di potenza. E sapete cosa vuol dire ciò? Che fa la stessa intensità luminosa di una barra LED di questo tipo. Calcolate che la comprai 2-3 anni fa e per il tempo erano veramente tanti 20W per un oggetto di questo tipo. Oggi Zhiyun ci stupisce nuovamente con un prodotto estremamente piccolo e leggero che sprigiona gli stessi 20W. Ma non finisce qui. Abbiamo una temperatura regolabile da 2.500 a 10.000 Kelvin. Quindi la potete veramente utilizzare ovunque. E non solo, abbiamo anche il Full RGB. Credo che questo prodotto Zhiyun l'abbia pensato per utilizzarlo come fill light. Del resto, se andate sul loro sito, ve la presentano così. Quindi non come una luce principale da dare al soggetto. Piuttosto per andare a creare questi effetti di luce qui, lì sopra infatti ho un pannello da 150W, invece potrei mettere questo qui fuori campo e otterrei lo stesso identico risultato. Siete in tanti ultimamente che su Instagram mi chiedete proprio un pannello LED piccolino da mettere davanti la macchina per fare video di notte. Ecco, questa potrebbe assolutamente essere la soluzione ai vostri problemi. Non solo avete un pannellino classico da mettere sopra la macchina, ma avete ben 20W di potenza, che sono enormemente di più rispetto a tutti gli altri pannellini fatti così. Ad eccezione sempre di quello di Zhiyun, ma ve ne parlo fra poco. Nella parte posteriore abbiamo questi due selettori e un display e come vedete c'è anche una bella ventolina arancione che chiaramente mi fa impazzire. Schiacciate e tenete premuto per andare ad accendere questo pannello LED. Ovviamente si accendo al 100% e quindi non vedo più niente. Comunque andiamo a vedere su questo pannello LED cosa possiamo fare con questo nuovo illuminatore. La prima funzione quando si accende è proprio il CCT, quindi possiamo andare a utilizzare la luce in tutte le sue gradazioni Kelvin. Vi ricordo come in tutti i prodotti Zhiyun che questi selettori sono anche cliccabili. Quindi se andiamo a cliccare lui andrà a 0 e poi andrà al 50% per poi tornare al 100% in maniera super rapida. Chiaramente poi possiamo andare a girare la nostra rotella e scegliamo l'intensità luminosa. Ruotando verso destra invece questo altro selettore possiamo poi andare a scegliere la temperatura colore. Se andiamo a cliccare però il tasto di accensione come vedete diventa RGB. E questa cosa a me fa sempre impazzire perché avere un pannello RGB così piccolo e così portatile è sicuramente una figata atomica. Basterà poi andare a ruotare questo selettore per poter scegliere tutto lo spettro RGB. Quindi avere un prodotto così piccolo e così portatile in tasca che ha sia la modalità di luce con varie gradazioni Kelvin sia tutto lo spettro RGB ci aiuterà a creare tutti i nostri contenuti. Per ricaricarlo qui sopra abbiamo una classica Type-C e la buona notizia è che un powerbank da 20W PD riesce a caricarlo o comunque a tenerlo in funzione. Quindi vi consiglio di prendere un powerbank da 20W o maggiore e non avrete assolutamente alcun problema ad alimentarlo. In confezione abbiamo il cavo da USB-A a USB-C per ricaricarlo o per alimentarlo però non è presente un caricabatterie. Nella versione combo però come vi dicevo all'inizio abbiamo tantissimi accessori. Questo è il primo che non è nient'altro che un vero e proprio cage per il nostro faretto. Quindi lo andiamo ad aprire è tutto in metallo e andiamo ad inserire il nostro faretto. Questa parte è completamente magnetica quindi se volete andarlo a mettere qui non c'è alcun problema. Poi da quest'altro lato quindi dal lato dove esce la luce in pratica abbiamo quattro magneti e quindi Zhiyun cosa ha inventato? Ha inventato un piccolo diffusore da mettere qui magneticamente al quale insieme o separatamente possiamo andare a utilizzare una griglia. Chiaramente per direzionare la luce. Ed in ultimo abbiamo questo accessorio qui che sono le bandiere. Quindi noi andiamo a metterle qui e in maniera assolutamente molto semplice andiamo a dirigere la luce come vogliamo. Altra cosa fondamentale sul cage abbiamo ben tre slitte. Una, due e tre e serviranno per mettere ad esempio altri faretti, viene in mente dei microfoni o quant'altro. Tutto quello che può andare a slitta può essere messo su queste tre slitte. Mentre da questa parte abbiamo la classica slitta flash per poterla mettere sopra la macchina fotografica. E chiaramente quest'ultima è dotata anche di vite da un quarto. Ma non abbiamo finito ancora perché qui dentro abbiamo sia la modalità scene, quindi tutte scene preimpostate tipo la polizia, tipo i paparazzi, la tv eccetera eccetera. Sia il bluetooth, quindi questo farettino qui andrà a parlare con l'applicazione di Zhiyun. Ma come vi ho detto nel re-unboxing c'è anche una modalità musica che mi piace da morire, non so quanto la utilizzerò io, però per alcuni potrebbe essere veramente fondamentale. È questa, la state vedendo in questo momento. Il faretto si accende e si spegne a tempo di musica. In questo momento sta chiaramente sentendo la mia voce, infatti se sto zitto lui si spegne. Se invece comincio a parlare, ecco lì che va appunto a tempo di musica. Chiaramente in questa funzionalità possiamo andare a scegliere che colore far apparire, se vogliamo far apparire vari colori, eccetera eccetera. È veramente un farettino super completo e la cosa bella è che è super portatile. In questo momento la ventola sta andando al massimo, perché durante la recensione sto facendo anche delle prove e vi faccio sentire cosa riesco a sentire io. Si sente o non si sente? Si sente, è piccolina, un pochino si sente, ma secondo me non dà troppo fastidio. Chiaro è che se prendete l'audio direttamente dalla macchina fotografica o da un microfono che sta comunque vicino a lui, è chiaro che un po' si sentirà questa ventola. Però in tutte le altre situazioni vi assicuro che non fa troppo rumore. Per quanto riguarda la durata, Zhiyun ci dà 40 minuti a tutta potenza e chiaramente man mano che scendiamo con la potenza si allungherà il tempo di utilizzo. Ma come vi dicevo prima, possiamo andarlo a ricaricare con una normalissima Type-C e la cosa bella è che non dobbiamo avere chissà quale powerbank con chissà quale voltaggio. Basta un powerbank normalissimo da 20W PD a salire. Quando Zhiyun è entrato nel mondo delle luci continue l'ha fatto con lui, M40 si chiamava, ed ha 40W ed è estremamente piccolo e leggero. Un po' più pesante di questo, anche con gli accessori, però vi ripeto, ha ben 40W di potenza. E siccome in molti di voi mi avete chiesto meglio questo o meglio quello che deve uscire, anche se non sapevate bene di cosa si stava parlando, Allora qui abbiamo un full RGB, quindi se vi serve l'RGB chiaramente andate direttamente su questo. Questo ha il doppio della potenza di quest'altro, però abbiamo qualche piccolo problema. Il primo è l'alimentazione. Questo ad esempio va alimentato con un powerbank da 65W in su, sempre con standard PD, il che vuol dire che non vanno bene tutti i powerbank, mentre questo qui sì. E poi chiaramente fa soltanto la luce, quindi non ha effetti, non ha la modalità musica, non ha le scene preimpostate, questo lo accendete e fate luce. Chiaramente è veramente molto molto comodo, perché 40W sono veramente un'enormità per un pannellino di questo tipo qui. Però vi assicuro che 40W, se dovete metterlo ad esempio sulla macchina fotografica, per riprendere delle persone, lo metterete al 5-10%, non di più. Proprio perché se lo mettete al massimo, ha cercato le persone che sono davanti. Quindi di fatto questo o lo utilizzate per illuminare una scena addirittura, sì lo potete fare. Anzi vi dico di più, una volta questo qui l'ho messo anche dentro un ombrello e ha funzionato alla perfezione. Mentre questo è proprio il classico pannello da mettere sopra la macchina fotografica, che però fa molta più luce di qualsiasi altro pannello delle medesime dimensioni. Quindi questo ve lo consiglio assolutamente se dovete andare a illuminare gruppi di persone infinite. Per esempio ho fatto un matrimonio con il mio amico Luca, arrivati a fine matrimonio c'erano i classici gruppi di persone e abbiamo illuminato tutto proprio con questo tenendolo in mano. Ed è una figata atomica. Questo invece lo vedo veramente perfetto, sia se volete fare dei set fotografici creativi, quindi avere l'RGB, sia se volete utilizzarlo come backlight o rimlight o volete illuminare dietro la modella di qualche colore. Assolutamente sì, però l'unica cosa è che 20 watt non sono molti, quindi i set che dovete fare con questo qui devono essere assolutamente al buio. Per farvi capire meglio il concetto, questa è la massima luce che fa questo pannello a 20 watt. Calcolate che qui sopra c'è uno da 60, quindi per carità fa tantissima luce, ma questo come vedete è proprio un'altra cosa, perché ha il doppio della potenza di quest'altro. Chiaramente anche il peso di questo è praticamente il doppio di questo, quindi questo da mettere sopra la macchina assolutamente lo sentite e vi da fastidio, questo no. Ma torniamo a lui, ragazzi cosa ne penso? È un pannellino LED veramente super mega top, mi è piaciuto da morire sia per come è fatto, sia per la gabbia, sia perché è fatto magnetico, sia perché se non mi serve la gabbia diventa estremamente piccolo e leggero, sia perché è RGB, sia perché ha la modalità musica. È uno di quei prodotti che sicuramente finisce dentro lo zaino, come del resto anche questo, quando ho dei set a luci continua, questo io me lo sono sempre portato dietro, magari l'ho usato poche volte, sì, però questo ce l'ho sempre dietro. E quando avrò dei set a luci continua, dove magari c'è anche qualche variante RGB e porterò sicuramente anche lui. Finisco il video facendo un discorso leggermente più largo, Zhiyun sta innovando tantissimo il mercato, tant'è che in questo momento ci sono moltissimi competitor che stanno uscendo con delle luci fatte proprio come quelle della Zhiyun. Anche quelle arriveranno sul canale e sono comunque molto interessanti, ve lo assicuro, ma mi hanno detto che arriveranno fine novembre, inizio dicembre, però tutto questo per dirvi che competitor con nomi anche più importanti rispetto a Zhiyun, che di fatto è entrata nel mercato delle luci da pochissimo, stanno copiando proprio Zhiyun. Va bene ragazzi, detto questo, fatemi sapere con un commento cosa pensate del video, se avete qualche domanda fatemela sempre qui sotto nei commenti, mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!